bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video voglio fare le cose fatte bene mentre loro droppano io con la nuova skin di harley queen me ne vado prepotentemente in falegnameria vado subito full legno e let's go ho abbassato di due punti e mezzo la sensibilità vediamo forza 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 come sta che meraviglia che è questo cosa gli sta bene vai 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 è arrivata gente disingaggio io non sono scildato voglio riuscire ad arrivare fino alla fine senza essere mai chillato ci scegliamo a pantano abbiamo il nonno e quindi è buona come cosa non so neanche se pantano e contested michele bisogna sempre essere full shield vi ricordo nuovamente che c'è il respawn quindi hai cinque vite in realtà l'unico modo per potenziare le armi è quello di morire se vieni chillato automaticamente tutte le armi nell'inventario ti passano di una rarità e quando chili qualcuno non ti dà i mazzi per forzare qua probabilmente c'è chi lo niente c'è il siphon vi ricordo ragazzi la safe corre con una velocità disumana attenzione sempre perché ci sono i cecchini ne è morto uno lì davanti a sinistra nella mini mappa vediamo anche le feed delle eliminazioni io vorrei sparargli a quel tipo la ma preferisco prendere la safe fidatevi che il problema più grande qui in questa modalità è i mazzi perché se non ne farmi a cannone rimani senza e ti fregano e la safe che corre troppo non è una bella posizione ma più di no calmi 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 qua più vai avanti più un disastro e questo guarda già scoppiato due volte due volte ha già scoppiato questo non posso rischiare non posso rischiare cosa stava dormendo e sono tutte strane sono lasciamo che la gente vada poi buttarti a cannone in mezzo alla mischia serviva un cecco serviva un cecco raga la se sta togliendo adesso 10 e siamo alla tempesta numero 5 di 9 il solito toglie 10 alla fine 13 giocatori dentro 10 team giochiamo di brain di brain dentro in 97 team vorrei laserarlo dentro in 8 sei team è un macello sono tutti in coppia come possibile no 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 dico dico minchiate una co1 da 2 e tutti da soli uno da 2 e tutti da soli è morto un altro siamo dentro in 7 ce n'è solo uno da 2 e tutti da soli non posso rischiare niente non voglio rischiare niente 6 giocatori dentro non siamo ancora morti Calmi 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 5 giocatori dentro 4 team Lo puscia lo puscia Scannatevi Piano 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 scannatevi scannatevi noi ci guardiamo il fight Sono 4 safe che siamo dentro ragazzi la safe toglie già 12 e fra un minuto e un quarto toglie 15 5 giocatori dentro 4 squadre Mamma mia se io spari mi vedono è un casino Quattro giocatori dentro quattro team siamo tutti da soli siamo tutti da soli Siamo tutti da soli Vediamo intanto Quello che si sta evolvendo davanti a noi che è un fight veramente molto acceso con i Tre giocatori di tre team che si stanno dando battaglia per chi riuscirà ad ottenere Le migliori kill con meno morti vediamo come il redeploy continua ad essere Sfruttato a cannone noi dobbiamo uscircene da qua ce ne usciamo adesso di prepotenza Devo prendere quel cespuglio senza fermarmi Devo la mia vita un quarto di cespuglio alla volta Credo che siamo dentro per un pelo credo Non ha i maz appena è a tiro Appena è a tiro Devo farlo farmare un attimo Arco diaz! Arco diaz! Arco diaz! Arco diaz! Arco diaz! Arco diaz! Arco gli amati! Arco più cantità! Arco ic zero! Arcusa di se oh vediamo chi ride adesso quando fa il redeploy ma l'ho preso ma vince lui eh non lo so se esultare raga ma doveva essere tutta un'altra cosa raga mi ha ucciso quattro volte mi ha ucciso